La partita di Ferrara è appena finita ed è finito anche il campionato. I tifosi del Milan avevano gli occhi vuoti a Ferrara al termine di una serata in cui i colori nerazzurri dell'Inter e dell'Atalanta hanno prevarso sui colori rossoneri del Milan. Ma è stata una serata in saliscendi dopo tanti anni in cui il Milan era lontano anni luce dalla Champions League. All'ultima giornata di campionato il Milan ne ha sentito il profumo della Champions League. Ne ha sentito il profumo per quasi tutto il primo tempo e anche fino a 7 minuti dalla fine. Milan che ha fatto 37 punti nel giro di ritorno e che ha concluso a 68 punti il suo campionato. È vero, il Milan deve recitare il mia colpa, è vero, il Milan deve pensare ai tanti errori fatti, soprattutto contro Parma e Udinese dopo il derby. Ma la squadra rossonera dopo la sconfitta di Torino si era data un impegno, vincere le ultime 4 partite. E l'ha fatto. Il Milan voleva provarci ad arrivare in Champions, non era un obiettivo ossessivo ma un obiettivo per il quale la società voleva rimanere viva a lottare fino all'ultima giornata di campionato. Cosa che è accaduta non soltanto fino all'ultima giornata di campionato ma fino agli ultimi minuti del campionato. Magra consolazione, poca roba, forse. Dipende dai punti di vista. In ogni caso il Milan si è qualificato alla fase a gironi di Europa League tenendo poi naturalmente conto del fatto che dovranno esserci i vari pronunciamenti UEFA ai quali forse il Milan presterà meno apprensione rispetto a che se si fosse qualificato per la Champions League. Che stagione è stata? Per l'Inter una stagione nella quale la qualificazione Champions League è arrivata al cardiopalma. Forse per gli interisti e per i colori nerazzurri è ancora più bello così. Però una qualificazione serena alla Champions League da parte dell'Inter non c'è stata. E anche se l'Inter ha confermato il quarto posto della scorsa stagione pur avendo rafforzato la squadra, ha fatto dei passi indietro nella valorizzazione di alcuni giocatori. Certo l'Inter si gode dal punto di vista economico-finanziario la Champions League e comunque il risultato l'ha centrato. L'Atalanta ha fatto un grande miracolo sportivo. Si pensava anche da parte degli avversari che l'Atalanta potesse mostrare la corda da un momento all'altro nel corso della sua stagione e invece ha tenuto botta fino alla fine. Non ha fatto come l'Ajax che si è piantata all'ultimo chilometro in Champions League e non ha fatto come l'Eintra che si è piantata all'ultimo chilometro in Europa League. Il Milan. Il Milan ha iniziato la sua stagione nell'aula di un tribunale europeo, il TAS. Ha fatto il mercato in fretta e furia, ha avuto tanti infortuni, ha avuto Biglia, Buonaventura, Conti, Caldara fuori per tutta la stagione, ha avuto Iguain con mal di pancia fin da metà settembre, ha avuto reiterati infortuni nel ruolo dei difensori centrali, ha avuto purtroppo il calo dopo il derby e cosa dopo cosa alla fine si è giocato la Champions League. A metà novembre quando erano fuori tutti i difensori centrali oppure a gennaio quando il Milan era tornato da Jedda senza Iguain di fatto era difficile pensare che il Milan potesse ambire la Champions League. Invece il Milan ha lottato, invece il Milan è stato in Champions League fino a sette minuti dalla fine del campionato. Certo, rimanere fino a sette minuti in lizza per la Champions League non è la Champions League. Certo ci sono stati degli errori, certo ci sono stati dei problemi, certo ci sono delle critiche da fare, assolutamente. Non mancano e non mancheranno da parte dei tifosi, ma vincere a Ferrari e chiudere a 68 punti è comunque una base di lavoro per il futuro, è comunque qualcosa su cui si può continuare a lavorare. Dopo sei anni il Milan è tornato ad un soffio dalla Champions League, mentre negli anni scorsi la Champions League era lontana anni luce e dopo sei anni c'è una base su cui continuare a lavorare in vista del futuro, cosa che durante tutta l'estate la proprietà Eriot sicuramente farà.